Ottenevano fondi europei per l'agricoltura, ma le aziende erano fittizi e i pascoli inesistenti a truffare Roma e Bruxelles, un'associazione per delinquere attiva dal 2014, scardinata questa mattina dall'operazione denominata Transumanza, al termine di due anni di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura dell'Aquila e condotte dalla Guardia di Finanza di Pescara. I finanzieri che hanno acquisito documenti, effettuato intercettazioni di più di 100.000 conversazioni, 8.000 accertamenti bancari su più di 270 conti correnti, hanno delineato il gruppo criminale che simulava di possedere i requisiti necessari per ottenere la disponibilità di terreni la cui concessione veniva messa a bando dai comuni ed erano rilasciati gratuitamente dalla Riserva Nazionale dei Titoli a nuovi giovani agricoltori. Sono state accertate frodi per 5 milioni di euro sequestrati a 24 imprese e a 38 soggetti, ma gli inquirenti sospettano anche il coinvolgimento della mafia foggiana nella maxitruffa, che ha coinvolto gran parte del territorio nazionale, 10 regioni del centro, nord e sud. Dimostra ancora una volta come il tema delle infiltrazioni mafiose sui fondi europei per l'agricoltura sia un tema nazionale.